Ripartire, ricominciare, rivoluzionare, essere gentili, prendersi cura degli altri, non sprecare. E noi, insieme a Loredana Galante, artista genovese che da anni vive e lavora a Milano, vincitrice del premio speciale Residenza d'Artista Ladino Zoli Textile ad Artin Cup 2019, vogliamo fare questa rivoluzione attraverso una mostra espositiva che ripercorre questo modo di essere. La mia rivoluzione gentile comincia dal mio cognome, Galante, che è diventato un manifesto programmatico. Contemplare i fili d'erba senza strapparli, sanificare le parole prima di dar loro il via, sentirsi parte di un unicum a cui partecipare con la versione migliore di me, non lesinare la mia vita e compiere offerte, coltivare nel silenzio la gratitudine, non sprecare, farmi carico della mia e dell'altrui vulnerabilità. E a questa attitudine ci siamo affiancati con la volontà di non sprecare nulla, a utilizzare anche gli sfridi di lavorazione dell'azienda Tessile per farne nuovi manufatti, nuove opere che possano raccontarci qualcosa di più profondo, abituati come siamo a disperdere più che a valorizzare. Vogliamo essere partecipi di un progetto artistico, di un cambio di mentalità che parte dal grande grembo dell'arte, costruire per prendere per mano, per aiutare e aiutarci. Ci immergeremo in una piscina simbolica piena di sfridi di lavorazione, filati, pezzetti di tessuto di varie dimensioni, frange, che sembreranno onde, in una iridescenza di colori che richiamano le tonalità dell'acqua, con le variazioni generate dalla luce, nelle quali ci si potrà tuffare per cercare quelle parole, scritte su alcuni tessuti, che dovrebbero guidarci dall'uscire dal caos della nostra quotidianità, con la volontà di rivoluzionare, nel nostro piccolo, parte della vita di tutti i giorni attraverso gesti gentili. Diventa anche tu parte di questa rivoluzione gentile. Aiutaci a raccogliere la somma per costruire questo percorso, che culminerà nel 2021 in una mossa interattiva con il pubblico, in una performance di cui sarai co-fautore e co-protagonista. Utilizza Appela, che abbiamo scelto come partner per questo nostro crowdfunding.